C'è un legame segreto fra lentezza e memoria, fra velocità e ublio, scrive Milan Kundera nel romanzo La lentezza. Quando leggo questa frase mi ci riconosco. Kundera prende come esempio un uomo che cammina per strada, cercando di ricordare un evento che sa di aver dimenticato. In quel frangente rallenta il passo. Un altro, che cerca di dimenticare un episodio imbarazzante che ha appena vissuto, fa esattamente il contrario e aumenta la velocità senza riflettere, come se volesse sbrigarsi ad allontanarsi da qualcosa di vicino nel tempo. Kundera traduce i suoi esempi in matematica esistenziale e crea due equazioni. Il grado di lentezza è direttamente proporzionale all'intensità della memoria. Il grado di velocità è direttamente proporzionale all'intensità dell'oblio. Credo che Kundera sia sulle tracce di qualcosa che va ben oltre la memoria e la dimenticanza. Il ritmo che scegliamo può essere rivelatorio del modo in cui pensiamo mentre camminiamo. Ho preso l'equazione di Kundera e ho provato a sostituire memoria con intelligenza. Con intelligenza possiamo intendere molte cose diverse, ma se la pensiamo come capacità di astrazione e di sfruttare le esperienze passate in situazioni nuove, penso che la matematica di Kundera funzioni bene. Le sensazioni sono molto meno afferrabili dell'intelligenza, ma per me è stato comunque significativo inserirle nell'equazione di Kundera. Se cammino rapidamente, mi sembra che tantissime sensazioni si allontanino. Quando rallento, invece, possono tornare. A volte, mentre si cammina, pensieri ed esperienze irrilevanti si mescolano a pensieri ed esperienze forse importanti. Cose divertenti e cose serie possono acquisire lo stesso valore. Una passeggiata consola, allieta e ristora, sostiene lo scrittore anonimo, protagonista del romanzo di Robert Walser, La passeggiata, davanti al direttore dell'ufficio delle imposte. Rinchiuso in casa, avvizzirei e inaridirei miseramente. L'esattore ritiene, invece, che dovrebbe camminare meno e pagare più tasse. L'anonimo prova a distoglierlo da quella posizione, spiegando che per lui le passeggiate sono fondamentali per avere qualcosa da scrivere. E come editore so che dice la verità, quando sostiene che con grande attenzione e amore, colui che passeggia deve studiare e osservare ogni minima cosa vivente, sia un bambino, un cane, una zanzara, una farfalla, un passero, un verme, un fiore, un uomo, una casa, un albero, una coccola, una chiocciola, un topo, una nuvola, un monte, una foglia. Come pure un misero pezzettuccio di carta gettato via, sul quale forse un bravo scolaretto ha tracciato i suoi primi malfermi caratteri. Il direttore ascolta e ringrazia per la spiegazione. Non ci è dato sapere se si lascerà convincere, ma la mia impressione è che i posteri abbiano accettato l'ideale dell'esattore, stare più seduti, lavorare più duramente e pagare più tasse. Quando si guarda intorno, il personaggio di Walser fa esperienza di poesie viventi. Io non sono altrettanto bravo quando cammino. Ogni tanto parlo al telefono o mando messaggi, perché mi sembra che il mio tempo sia prezioso. Ma in quelle occasioni sto sopravvalutando il mio significato, perché non c'è quasi niente che non possa aspettare una mezz'oretta. Lo schiavo esopo, quello delle favole, già a duemilacinquecento anni fa ridicolizzava il bisogno umano di fare più cose contemporaneamente. Secondo il saggista, Michel de Montaigne, una volta esopo vide il suo padrone orinare mentre camminava, e commentò. E che, dunque, dovremmo cacare correndo? Che esopo sia stato il primo a mettere in discussione l'efficacia del multitasking? Non saprei. Quel che so è che, pur mettendone in dubbio l'efficacia, cerco ancora di fare due o più cose contemporaneamente. Aveva ragione Montaigne, quando in seguito scrisse, Amministriamo il tempo, ce ne resta ancora molto diozioso e malimpiegato. A oggi mi sento a casa, in un posto nuovo, solo dopo averlo esplorato e vissuto con le gambe, indipendentemente da dove mi trovo. Se sono in una città, percorro le sue strade in lungo e in largo. Lascio che i piedi la mappino, proprio come quella volta che infilavo volantini nelle cassette della posta e ci arrivavo a stento. Provo a cogliere gli spazi con tutto il corpo, senza aspettare che gli occhi arrivino ad afferrare quel che i piedi hanno già capito. Così acquisisco nuove coordinate e vivo i luoghi in modi sempre nuovi. È una mia forma personale di ricerca topografica. Alcune città sembrano fatte apposta per essere percorsi in automobile, ma vedere una città dal finestrino di un'auto non dà molto di più che vederla in fotografia. A Los Angeles può capitare che la polizia ti fermi solo perché se cammini desti sospetto. L'ho visto in prima persona. L'estrema difficoltà a prendere confidenza con quella città mi ha disturbato. Così ho deciso di percorrerla tutta a piedi con due amici, di avvicinarmi di più alle persone e all'asfalto, di imparare a conoscerne i dintorni con le piante dei piedi, in lungo e in largo. Decidemmo di partire da Cesar Chavez Avenue vicino a North Townsend Avenue, per poi prendere verso Ovest, attraverso Downton e la Union Station, seguire il Sunset Boulevard, passando Ico Park, Silver Lake, Hollywood, Beverly Hills e Pacific Palisades, finché la strada si arresta a Malibu e all'Oceano Pacifico. Si può percorrere l'intera tratta in una giornata piena, ma decidemmo di dedicarcene quattro. In diverse occasioni mi è capitato di passare in macchina davanti alla chiesa di Scientology, a est del Sunset, un edificio azzurro di sette piani, a forma di V, che comunica chiaramente il messaggio che gli adepti di Scientology sono ricchi e potenti. L'edificio è diventato meta d'attrazione sia per i turisti, sia per la gente del posto. Ogni volta che ci sono passato davanti, mi ha impressionato pensare al numero di membri che deve avere la comunità per riempire uno spazio così grande. Passandoci a piedi, invece, ci siamo fermati, siamo entrati e abbiamo chiesto una consulenza per una vita migliore. All'interno l'enorme edificio era vuoto come un castello infestato, fatta eccezione per quattro rappresentanti di Scientology che parevano molto felici di vederci. Dunque la facciata non corrispondeva all'interno. Dopo novanta minuti fra introduzione alla storia di Scientology, test della personalità e colloqui privati con un rappresentante della Chiesa, la loro conclusione fu duplice. Io e i miei compagni avevamo enormi problemi personali, ma loro potevano aiutarci. A piedi verso ovest, in direzione dell'Oceano Pacifico, ci colpì che a Los Angeles ci fossero ben pochi alberi rispetto al numero incommensurabile di saloni per manicure e tossicodipendenti. In grandi zone tutto è costruito. Los Angeles è stracolma di progetti immobiliari, e ci facemmo l'idea che una metà della città curasse le unghie all'altra metà. Il piacere di camminare in un contesto urbano è stare in mezzo alla gente. Andando a piedi diminuisce il distacco tra ciò che si vede e ciò che si fa. Finché dura la camminata, si impersona quel che gli antropologi sociali definiscono un partecipante, e non soltanto un osservatore. La distanza fisica tra la chiesa dei Scientology e West Hollywood, un pezzo del Sunset, dominato da vecchi cinema e centri di yoga, senza tetto, cliniche dimagranti e hamburgerie, spacciatori e prostitute, non conta molti chilometri, ma le differenze sono molte. West Hollywood, con i suoi hotel di lusso, i ristoranti e le insegne al Neon, funziona quasi da cuscinetto tra la parte povera e Beverly Hills. Ogni giorno circa 44.000 macchine attraversano Beverly Hills, e davanti a ogni casa c'è un cartello che mette in guardia da una possibile armed response, nei confronti di chi dovesse violare la proprietà. Lungo la curva, chiamata Dead Man's Curve, non ci sono marciapiedi, e ci siamo dovuti barcamenare tra i cartelli dei vari padroni di casa e Mercedes e Porsche che sfrecciavano. Credo che nemmeno un'automobilista rispettasse i limiti di velocità. Qualche chilometro più avanti, sempre in direzione ovest, ci fermammo accanto al monumento in memoria di Giulia Sigler. A tredici anni aveva cercato di attraversare il Sunset Boulevard andando a scuola, ed era stata investita da due automobili. Secondo il giornale locale, Giulia amava ballare e il colore viola. Tre giorni dopo feci la mia prima esperienza di trattamento alle unghie in un salone di Pacific Palisades. Due donne del quartiere arrivarono da Rosy Nails, nei loro enormi sub sfavillanti e in completo da yoga per l'appuntamento quotidiano, mentre noi eravamo lì seduti a farci curare i piedi maleodoranti. Le loro pupille erano dilatate, le voci intorpidite. Sembrava avessero preso pasticche di ossicodone per colazione, e credo nemmeno si accorgessero che qualcuno stava trattando le loro unghie. Avevamo visto moltissimi tossici in giro, ma quelle due erano uno spettacolo particolarmente triste. Come disse uno dei miei compagni, almeno la maggior parte degli altri non deve prendersi cura dei bambini che tornano da scuola. Mi hanno raccontato che gli angelenos privilegiati guidano Hammer e Suv per sedersi più in alto rispetto al livello del suolo, e risparmiarsi così la vista dei senza tetto lungo le strade. Ma non coincide con la mia esperienza. La mia impressione dal ciglio della strada, parlando con drogati, poliziotti, attori e baristi, è infatti che tutti siano così presi a guardare chi ha avuto più successo di loro, che non gli rimane nemmeno il tempo per pensare a chi non ce l'ha fatta. Quando in un lasso di tempo limitato incontro così tanta gente e così varia come a Los Angeles, penso che nonostante tutto siamo tutti uguali. Tutti quanti abbiamo dentro di noi bellezza, stupidità, intelligenza, bontà, debolezza, forza, ottimismo e pessimismo, così come la vittoria e il fallimento sono situazioni che ci toccano tutti nel corso della vita. Strada facendo, cercammo di ottenere un ritmo naturale per camminare e osservare, ma non ci riuscimmo. Non c'era un modo unico. Quando si attraversa a piedi una città, un buon ritmo non è una costante, ma può variare a seconda della complessità del quartiere, del traffico, se c'è o no un marciapiede, in base alle persone che incontri e alla quantità di ricordi che vuoi immagazzinare. La corteccia cerebrale discerne tra quel che è importante e quel che non lo è, e in seguito il cervello ha bisogno di tempo per elaborare e interpretare le impressioni raccolte. Penso che sia un po' come leggere un libro. Quel che afferriamo dipende dalla nostra attenzione, che è una risorsa limitata. Se aumenti il ritmo, automaticamente ti concentrerai su meno particolari. Allora, come mi ha spiegato la neurologa Kaya Nordgen, si riesce a vedere senza vedere e sentire senza sentire. Tenendo conto di tutte le volte che ci siamo fermati per strada a Los Angeles, abbiamo camminato alla velocità media di due chilometri l'ora. Forse la prossima volta dovremo provare ad andare ancora più piano. Alla scuola elementare di Nordstrand, all'inizio degli anni settanta, ho imparato che Dio ordinò ad Adamo ed Eva di lasciare il giardino dell'Eden, Una delle poche cose che ricordo dei miei primi sei anni di scuola, è la figura di un libro di testo che rappresentava Adamo nudo, mentre lascia il paradiso terrestre a Capo Chino. Tuttavia, non credo a questa storia. Adamo non è stato cacciato dal paradiso. Adamo ed Eva si annoiavano. Eva voleva che succedesse qualcosa, e ha imbrogliato il suo uomo. Il serpente aveva ragione a dire che era pericoloso mangiare dall'albero della conoscenza, perché a quel punto avrebbero visto la differenza tra il bene e il male. Eva era curiosa, e voleva sapere cosa sarebbe successo, se l'uomo avesse mangiato il frutto dell'albero. Subito dopo udirono il rumore dei passi del Signore Dio, che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e si nascosero. Queste parole costituiscono una delle prime descrizioni letterarie del camminare nella storia del mondo. La prima volta che ho sentito questa frase avrò avuto forse sette anni. Mi sono immaginato Dio che camminava in quel giardino meraviglioso, cercando quei due. Un vecchio stanco, con una tonaca consumata, una grande barba, lunghi capelli spettinati, e un'andatura pacata. Mi piace questo pensiero, che Dio se ne andasse a spasso per il giardino dell'Eden. Che anche Dio sappia apprezzare una passeggiatina serale. Questa storia mi ricorda la mia vita. L'idea di una società comoda e priva di rischi funziona bene nelle pubblicità dei dentifrici e delle automobili, ma la trovo insopportabile nella realtà. Alla vita quotidiana, con i lavori, i bambini, la preparazione dei pasti e i lavori domestici, manca spesso una parte importante, l'emozione. Sentimenti come la speranza, l'amore e la gioia si appiattiscono. Diventa difficile distinguere un giorno dall'altro. Scommetto che Adamo ed Eva provavano la stessa frustrazione. La Bibbia non racconta un granché di cosa successe ad Adamo, una volta diventato il primo esploratore di tutti i tempi. Non credo che visse per sempre felice e contento. In paradiso aveva un solo problema, non succedeva niente. Fuori dal paradiso ne trovò sicuramente molti e nuovi di problemi, ma credo che abbia provato una grande gioia quando, dopo aver camminato per un bel pezzo, scoprì che poteva camminare ancora e ancora. L'irrequietezza logorante che lo affliggeva scompariva gradualmente, sostituita da nuove emozioni. Ho percorso le stesse strade dei personaggi dell'Ulisse di James Joyce e di Fame di Newt Hamsun, con l'obiettivo di capirne meglio i corpi e le membra. Un racconto come Fame fa tutto un altro effetto dopo essersi mossi per gli stessi quartieri dell'anonimo e affamato narratore, anche se hai appena mangiato. Un pantano che esalava vapori caldi, scrive Hamsun, riferendosi a Carla Jonas Gate, e questa descrizione vale ancora oggi. Cinque minuti di cammino più avanti, davanti a un ristorante della storgata mi fermai a riflettere, con calma e sangue freddo, se non fosse il caso di concedermi uno spuntino. La storgata di oggi assomiglia a quella del 1890, anno in cui uscì il libro, e ancora ne percorrono i marciapiedi senza tetto, con gli sguardi stanchi che avrebbero bisogno di un pasto. Simili osservazioni per me sono come piccoli ami che mi aiutano ad accedere a realtà o a finzioni superiori. Dal 1948 al 1959, lo scrittore Vladimir Nabokov tenne lezione agli studenti della Cornell University sull'Ulisse di Joyce. In breve, il romanzo narra la storia di Stephen Dedalus e Leopold Bloom, che in un giorno qualunque, il 16 giugno 1904, camminano per le strade di Dublino, entrando e uscendo da case e salendo e scendendo scale per 736 pagine. Ci sono anche avvenimenti più significativi del vagare in sé, come il fatto che Rudy, il figlio di Bloom, muore da neonato, o che la moglie dal momento della tragedia non vuole più fare sesso con lui, o anche il suicidio del padre, ma funzionano apparentemente come storie secondarie nelle pieghe del racconto. Nabokov sosteneva che per poter comprendere il romanzo e apprezzare la scrittura di Joyce non bastasse sapere che i personaggi vagano per le strade di Dublino, che cosa pensano e che cosa fanno. Per riuscire a capire quel libro, gli studenti dovevano essere a conoscenza dei luoghi frequentati dai personaggi e delle ore del giorno in cui camminavano. Invece di perpetuare la pretenziosa assurdità dei titoli omerici, cromatici e viscerali dei diversi capitoli, gli insegnanti farebbero meglio a preparare delle cartine di Dublino su cui siano indicati chiaramente gli itinerari intrecciati di Bloom e di Stephen. Mi piace questo consiglio. Bloom descrive ogni strada così dettagliatamente, che è come se invitasse il lettore a posare il libro e a farsi un giro in città. Nabokov mise in pratica le sue parole e disegnò una mappa con vie, frecce, numeri e nomi. Io l'ho studiata e ho seguito lo stesso percorso della trama. Ha ragione. Davy Barnes, un pub menzionato nel romanzo, è tutta un'altra cosa, dopo che si è passeggiato per le stesse strade di Bloom, si è entrati e si è bevuto il suo bicchiere preferito, un burgunder. Alexander Selkirk, lo scozzese che ha ispirato a Daniel Defoe il romanzo Robinson Crusoe, rimase su una delle isole Juan Fernández, al largo del Cile, dal settembre, il giorno esatto non è noto, 1704, al 2 febbraio 1709. Il libro sul solitario Robinson Crusoe mi ha affascinato sin da quando me lo leggevano ad altavoce i miei genitori, prima che imparassi a farlo da solo, e mio padre mi raccontò che il romanzo era basato su una storia vera. L'isola su cui Selkirk visse, ed è ambientato Robinson Crusoe, ovviamente ha cambiato nome. Anche gli interessi economici locali vogliono la loro parte. Isla Robinson Crusoe. Nel 1986 ci sono approdato arrivando dalle Bermuda e passando per il canale di Panama. È stato sorprendente scoprire quanto il territorio corrispondesse al libro. Ho battuto l'isola a caccia dei luoghi descritti da Diffaut. Ci sono sia la postazione di vedetta di Crusoe che la grotta vicino al mare. Un giorno ho provato a scalare la cima più alta in rabbicata libera. Non ci sono riuscito, ma sono salito abbastanza da poter vedere tutta l'isola a prospettiva d'uccello. In quel momento mi sono reso conto che la storia che mi aveva fatto sognare consisteva in realtà in due racconti. Non l'avevo mai realizzato prima. Uno era il romanzo che avevo ascoltato a casa, lasciando che tutte le informazioni mi entrassero nelle orecchie. L'altra versione era quella che vivevo in prima persona mentre mi trovavo al posto di Selkirk e osservavo il rossiccio terreno vulcanico che si convertiva in sassi, rocce ed erba vicino all'acqua, poi in vegetazione fitta, rovi e alberi andando verso l'alto, e infine ecco il limite degli alberi, all'incirca un migliaio di metri. Ho camminato salendo dalla riva alla postazione di Vedetta per guardare l'oceano Pacifico, proprio come avevano fatto Selkirk e Crusone il tentativo di avvistare una nave. La salita segue il terreno in modo naturale, perciò devo aver rifatto almeno in parte il tragitto originale. Selkirk percorreva quei 600 metri nella speranza che proprio quel giorno sarebbe stato diverso. Dovete aspettare quattro anni e quattro mesi prima che arrivasse una nave. Forse col passare del tempo le passeggiate al posto di Vedetta erano diventate un'unica grande frustrazione? Non ne sono sicuro, ma credo che siano state proprio la pratica del camminare, la fiducia nei soccorsi, le frustrazioni e la vista a tenerlo in vita. Finché camminava c'era speranza. Una volta in cima è stato facile capire per chi avesse scelto proprio quel punto. Si possono vedere molte miglia nautiche in un solo colpo d'occhio, ma la postazione di Vedetta offre anche un'altra dimensione. Guardando tutta l'isola e l'oceano infinito, ho sentito che quella vista doveva dare a Selkirk una grande forza interiore nella sua solitudine. Dal posto di Vedetta ho cercato con lo sguardo la parte di spiaggia, su cui Crusone aveva notato le impronte nella sabbia, la svolta nella sua esistenza, ma non l'ho trovata. L'ultimo giorno ho percorso tutta l'isola per cercarla, ma non ho trovato nemmeno una spiaggia di sabbia sull'isla Robinson Crusoe. Dunque nemmeno Selkirk aveva una spiaggia piacevole su cui camminare. Grazie al terreno roccioso, invece, diventò bravissimo a correre a piedi nudi. Le piante dei suoi piedi divennero così dure che, quando vennero a salvarlo, stupì tutti i marinai rincorrendo una capra sulla spiaggia sassosa per poi acciuffarla e ucciderla. I piedi sono i nostri migliori amici. Raccontano chi siamo. I piedi sono in comunicazione con gli occhi, le orecchie, il naso, le braccia, il busto e le sensazioni, in un dialogo spesso troppo rapido perché la mente riesca ad afferrarlo. I piedi ci portano avanti con precisione. Percepiscono il suolo e tutto ciò con cui la zona plantare viene a contatto. Registrano impressioni e poi fanno un passo in avanti o di lato. I piedi sono strutture meccaniche forti e complesse. Con 26 ossa, 33 articolazioni e più di 100 tendini, muscoli e legamenti, tengono il corpo eretto e in equilibrio. Hanno cominciato a svilupparsi prima che i nostri antenati assumessero la posizione eretta. Queste trasformazioni dipendevano dalla necessità di adeguarsi all'ambiente circostante per poter sopravvivere. Ma nel corso del tempo, in oltre due milioni di anni, quel che una volta i norvegesi facevano per necessità è diventato un piacere. Non avendo più bisogno di farlo, attraversare un campo a piedi, scalare una montagna e nirpecarsi su una rupe o addentrarsi in un bosco alla ricerca di un posto per accendere un fuoco, sono diventate attività di svago. I piedi, che hanno avuto il compito di aiutare l'uomo a sopravvivere, e sono ancora importanti per la sopravvivenza in gran parte del mondo, oggi sono diventati i nostri mezzi per trovare una buona postazione in sfiaggia, prendere una scorciatoia per tornare a casa, infilarsi in camera da letto o passeggiare per allontanare i problemi. Eppure può capitare che la testa perda il contatto con i piedi. Una mia conoscente, che lavorava a pieno ritmo come avvocato e amava la sua professione, all'improvviso ebbe un attacco di panico per cui credette di morire, seguito da un vero e proprio esaurimento. Dopo una lunga assenza per malattia, tornò a lavorare intensamente come prima, e ben presto comparvero nuovi attacchi di panico e un forte mal di testa. Il medico le prescrisse una terapia psicomotoria. Nella prima seduta le fu chiesto di stare dritta in piedi. Il terapista le domandò cosa sentiva. Niente. Allora le chiese più specificamente cosa sentisse sotto i piedi, nelle gambe e nelle cosce. Solo quando tese i muscoli femorali, la mia conoscente realizzò che il suo corpo non era fatto solo di una testa dolente. Il medico la fece sedere e le diede due bastoncini da far scorrere avanti e indietro sotto i piedi. Poi le chiese di nuovo cosa sentiva. Che cosa sento? Ripete lei, nervosita dall'insistenza di quella domanda. La risposta restava sempre la stessa. La settimana successiva cominciò a sentire un dolore tremendo sotto le piante. A quel punto il terapista le chiese di stare in piedi sui bastoncini, sempre facendoli scorrere avanti e indietro sotto gli archi plantari. Il dolore si fece così intenso che lei si piegò in due per le fitte. Più avanti capì che il medico le aveva assegnato quegli esercizi affinché la testa ritrovasse il contatto con il corpo. La sua testa aveva bisogno di contatto col suolo. I piedi possono rivelare come ci sentiamo. Piccole variazioni alla camminata regolare possono raccontare al mondo circostante se stiamo passando una buona giornata o no. Il professor Rory Wilson della Swansea University ha condotto delle ricerche sul grado in cui la malattia, gli ormoni, l'alimentazione e le sensazioni influenzano i movimenti di uomini e scarafaggi. Durante gli esperimenti, negli uomini e negli scarafaggi, sono stati impiantati strumenti di misurazione per rilevare modelli di movimento tridimensionali. L'obiettivo era dimostrare la corrispondenza tra variazioni coerenti nei movimenti delle due specie e come si sentivano. Per rendere la ricerca più realistica, tutti gli esperimenti sono stati svolti negli ambienti usuali dei soggetti presi in esame e non in laboratorio. Secondo questo studio, ad esempio, dopo la visione di un film al cinema, il pubblico cammina in modo diverso a seconda che il film fosse triste o divertente. Dopo aver osservato sia me stesso sia altri spettatori allontanarsi da una sala, sono propenso a credere a questa conclusione. E non solo relativamente al cinema, ma anche ad altre situazioni. Se osservo qualcuno che si prepara a fare una passeggiata nel bosco, in montagna o nel parco, e poi lo rivedo mentre torno a casa, riesco a notare le differenze. I cambiamenti in un camminatore, per me, sono ancora più chiari di quelli di chi va al cinema. Se alla partenza è stanco dopo una giornata di lavoro, al rientro presenta un altro tipo di stanchezza. Gli occhi brillano, il corpo appare più elastico e il sorriso più aperto. Avendo avuto esperienze con gli scarafaggi, mi risultava difficile credere che avessero un linguaggio del corpo sviluppato, ma mi sbagliavo. I ricercatori hanno fatto correre ogni giorno per due metri alcuni esemplari malati e altri in salute. Uno scarafaggio che sta bene posiziona le zampe in modo diverso rispetto a uno che sta male e ha una postura più elastica. Un esemplare in salute, inoltre, accelera più rapidamente di un malato. Per decidere se è un candidato adatto all'accoppiamento o se invece ucciderlo e procurarsi un pasto, l'orso polare valuta un suo simile dal modo in cui cammina. Quando sono riposato o di buon umore, sento che il corpo assume una posizione più eretta e i passi sono più agili. Ho l'impressione di essermi tolto di dosso uno zaino pesante. A volte mi capita di sentirmi felice senza alcuna ragione, come un regalo inaspettato. Lo scrittore Thomas Espedal descrive qualcosa di simile nel libro Camminare, dappertutto, anche in città. Lo scrittore è in preda ai postumi di una sbornia, per aver bevuto quattro giorni di fila, quando il sole colpisce un cartello stradale e mi assale un'inaspettata sensazione di felicità. Il lieve bagliore rende i pensieri più leggeri, e pian piano capisco tu sei felice perché cammini. Quando sono stanco o giù di corda, cammino con la schiena più curva, e i passi si fanno più pesanti. Nel romanzo Austerlitz, lo scrittore Sebald racconta che gli abitanti di Praga cambiarono andatura il mattino in cui i soldati tedeschi occuparono la città. A partire da quel giorno, la gente prese a far vita ritirata, a camminare con passo più lento, come nel sonno, quasi non sapesse più in quale direzione volgersi. Mi piace che Sebald enfatizzi così. Anche se i ciechi non camminavano davvero come sonnamboli durante l'occupazione, lo scrittore riesce a creare un'immagine che rende più facilmente immaginare come, a modo suo, quel giorno la città abbia sofferto una specie di morte collettiva. Mia nonna procedeva in modo sempre un po' intimorito, le spalle leggermente sollevate, i passi rigidi, come se i muscoli non si volessero rilassare. La vita le aveva messo davanti molti ostacoli. Non ricordo di averla mai sentita lamentarsi, tutt'altro. Era sempre affettuosa e premurosa con i nipoti intorno, ma il suo corpo parlava. In una persona l'andatura può rivelare più del viso. Mentre cammino riesco a notare i volti solo di sfuggita, ma il modo in cui un altro mette un piede davanti all'altro posso studiarlo un po' più a lungo. Se andiamo nella stessa direzione, poi, posso osservarlo anche per molti minuti. L'andatura è senza dubbio legata alla genetica. Ad esempio, ho riconosciuto subito in Solveig alcune movenze dei nonni, ma è anche espressione di valori e norme sociali. Proprio per questo i passi che Solveig muoverà nel resto della sua vita racconteranno la sua personalità. Un poliziotto cammina in tutt'altro modo rispetto a un hipster, che a sua volta cammina diversamente da un mendicante. Questi tre esemplari, che abbondano per le strade di Oslo, sono mossi da ragioni diverse. Il primo deve controllare ed esprimere attraverso il corpo la fiducia nella propria autorità. Il secondo ha un'andatura più rilassata ed inoccolata, mentre il terzo esprime la rassegnazione alle umiliazioni quotidiane. L'appartenenza sociale si è impressa nei loro corpi. Ogni cosa in noi è condizionata, ha detto il sociologo francese Marcel Maud. Si può riconoscere una giovane allevata in convento dal fatto che cammina generalmente con i pugni chiusi. Come è tipico degli intellettuali francesi, Maud si esprime con una frase a effetto, ma ha ragione a sostenere che il modo in cui ci muoviamo è un connubio tra il sistema psicologico e quello sociale. E il condizionamento sociale, come ha ben formulato il suo successore Pierre Bourdieu, è iscritto nel corpo. Maud e Bourdieu concordavano sul fatto che il modo in cui camminiamo sia predeterminato, ma possa modificarsi nel corso del tempo. O anche all'improvviso, ad esempio se ci troviamo a vivere un cambiamento violento, un infarto, la perdita del lavoro, un lutto. In condizioni normali, tuttavia, io, tu, un prete, un poliziotto e un mendicante, continueremo a camminare come abbiamo sempre fatto. In alcuni paesi la polizia cerca di individuare sistemi per identificare i criminali in base al movimento del corpo mentre camminano. Tramite l'analisi dell'andatura, si spera in futuro di poter determinare l'identità di una persona quasi con la stessa esattezza di una traccia di DNA. Si è anche cercato di indagare i criteri con cui gli aggressori valutano le possibili vittime in una via. Alcune persone camminano in modo tale da apparire insicure, introverse e vulnerabili. L'omicida seriale americano Ted Bundy ha raccontato di riconoscere una vittima dal modo in cui cammina per strada. La camminata non mente, ma si può bleffare o magari imparare a modificarla. Se la potenziale vittima cominciasse a procedere a passi più lunghi, con un'andatura più rapida e mobilitando anche le braccia, l'interesse potrebbe scemare. Quando mi trovo in un quartiere pericoloso, cerco di adottare una camminata più sicura e un ritmo più sostenuto. Non credo di spaventare qualcuno, ma io mi sento più tranquillo. Allo stesso modo, se mi capita di dover passare accanto a qualcuno in una stradina buia e percepisco che è spaventato, ci sono donne che si guardano istitivamente alle spalle quando tornano a casa da sole la sera, allora rallento e attraverso la strada. Alla fine degli anni settanta, vidi il film Grease, e nei giorni seguenti provai a camminare nello stesso modo di Danny o John Travolta, quando fa colpo su Sandy, la ragazza più bella del film interpretata da Olivia Newton-John. Un'ampia falcata dondolante, accompagnata dalle braccia che ne seguono il ritmo, ma non mi riuscì. Quasi subito tornai alla mia camminata regolare. C'è un legame segreto.